Dicevo, oggi ho il compito e l'onore di presentare la relazione del dottor Marco Sarà dell'Istituto San Raffaele La Pisana di Roma che è una delle personalità di spicco per quanto riguarda la ricerca sulla mente, sul cervello e sullo stato di coscienza. E' anche un revisore ufficiale di varie riviste internazionali di ambito neurologico quindi per i non addetti ai lavori si può dire che lui è una di quelle persone che è in grado di valutare e di decidere se le varie studi scientifici vadano pubblicate in queste riviste di ambito internazionale. Diciamo che è la prima volta anche per me che lo incontro nella vita reale però nella vita virtuale forse ci siamo scambiati un paio di commenti credo perché siamo entrambi in contatto con Matilde Leonardi che è la direttrice del Coma Research Center dell'Istituto Carlo Besta di Milano. E oltre a questo però dicevo in realtà io conosco Marco Sarà da diversi anni perché è autore di importanti articoli scientifici del settore che appunto anch'io seguo abitualmente per esempio studi che hanno fatto vedere una ripresa dello stato di coscienza in pazienti in stato vegetativo anche a lunga distanza di tempo oppure le correlazioni che ci sono tra l'utilizzo di alcuni farmaci e la ripresa dello stato di coscienza oppure studi che riguardano il dolore nei pazienti in stato vegetativo. Questi sono tutti studi che io tutti gli anni cito agli studenti del corso di laurea in fisioterapia oppure che seguo io stesso con molto piacere. Quello però di cui parliamo questa sera è un argomento che si discosta in parte da queste tematiche e riguarda quella che invece parte da alcuni suoi articoli sulla prognosi precoce dei pazienti in stato vegetativo e stato di minima coscienza utilizzando l'analisi non lineare di impulsi biologici. Questi sono stati degli studi, delle metodiche sicuramente originali oltre che validate che possono essere comunque utilizzati anche in un ambito più ampio per capire quello che è il funzionamento della mente e anche ulteriori aspetti che invece possono riguardare anche la nostra vita quotidiana. Quindi è con grande piacere che cedo la parola al nostro relatore. Grazie. Buonasera a tutti. Si sente? Perché da solo non... Allora, vedete questa immagine? Questo è Central Park a New York e vedete come è netta la sapirazione fra quello che ha fatto l'uomo e quello che sembrerebbe aver fatto la natura. Vedete? È impressionante. Voi avete lì la città e dall'altra parte diciamo la natura anche se è domesticata dentro un giardino. questa differenza è eclatante immaginatevi se dall'altra parte ci fosse una foresta queste sono due realtà che per noi sono entrambe reali questo festival è dedicato a capire come noi capiamo il mondo queste due cose sono entrambe reali per noi però se ci riflettete un secondo una è naturale l'altra l'abbiamo fatta noi ok? E se una cosa l'abbiamo fatta noi è reale nello stesso modo in cui lo è una cosa naturale? Ora, questo potrebbe essere una domanda oziosissima se ci pensate ma non è tanto oziosa quando si cerca di capire di nuovo il naturale perché quando noi cerchiamo di capire come funziona il cervello stiamo cercando di capire come funziona una cosa così non una cosa così, non l'abbiamo fatto noi il cervello ok? E questo porta a delle conseguenze un parolone terribile epistemologiche cioè di metodologia scientifica però sono importanti perché se no ci andiamo perdendo lui diceva che ho fatto delle cose con l'analisi non lineare dei sistemi biologici per capire se uno si sarebbe svegliato o no è vero, è un settore interessantissimo d'altra parte ormai non si sente parlare d'altro non dico che l'ho inventato io dico non si sente altro che parli di web, di network avete presente? tutto è connesso ed è una cosa che ci ha preso veramente la mano non solo dal punto di vista epistemologico ma anche dal punto di vista della cultura dell'uomo qualunque ormai si parla anche di internet delle cose, no? il frigorifero non ti va a comprare da mangiare se sei grasso va bene noi siamo abituati no? come questi due signori qua siamo abituati a quella differenza per noi una porta o un albero sono due cose su cui possiamo andare a sbattere giusto? è ovvio che sono reali entrambe allo stesso modo non ci sono dubbi neanche su questo però ci siamo nel tempo è evidente anche questo abituati al fatto che sono realtà un'artificiale e l'altra invece naturale guardate l'abitudine a cosa può portare questa è una foto che mi ha sempre fatto veramente divertire questi sono due poliziotti siamo nel 70 che sono riusciti finalmente a portare un matto in pronto soccorso lui vedete le facce di queste due questa è l'abitudine esiste questa si chiama espressione da spock avete presente quello dell'enterprise con l'orecchia punta questa è proprio l'espressione fai un po' quello che vuoi tanto a me ti ho portato qua ho finito questa è l'abitudine ok? e il fenomeno dell'abitudine noi dobbiamo abbandonarlo lasciarlo perdere non pensarci perché blocca la la scienza ok? noi siamo abituati quindi ribadisco no? il punto chiave la cosa che volevo dirvi per cominciare abituati a considerare tanto reale una cosa fatta da noi che una cosa invece fatta dal buon dio secondo alcuni dall'evoluzione secondo altri dalla natura quello che vi pare a voi tanto non importa quello che abbiamo trovato prima della rivoluzione industriale ma quello che abbiamo trovato prima della ruota non va bene prima del fuoco quello che volete voi quello che c'era prima ok? era lì ed era uguale più o meno a quello che c'è adesso il cervello nostro e quello di duemila anni fa più o meno sono molto simili ci scoccia un po' questa cosa però è così ve lo posso assicurare e questi qua sono due che sono abituati ok? l'espressione la fine lo vedete l'espressione e non possiamo vivere in questo mondo qua ora sapete che hanno fatto sta foto favolosa questo buco nero benedetto no? e io sono contentissimo soprattutto per quelli che hanno fatto la foto ma noi in che modo siamo collegati a questo affare qua ve lo sapete dire voi? cioè è interessante attenzione stiamo facendo io sono abituato in questo caso sono uno di quei due lì di prima ok? ci siete? perché in fondo a me ogni tanto la tv dice hanno fatto un'altra cosa con qualche diavoleria nello spazio giusto? e io dico vabbè però esco di casa come il giorno precedente non è che mi ha perché in fondo non è il mio campo veramente perché non è il mio campo ma no perché sto benedetto buco nero è comunque molto lontano molto 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 lontano ci siete? e a 48 quanto è? lo sapete tutti non so quanti anni 48 anni luce da noi oppure di passato giusto? quindi noi in realtà stiamo lavorando l'uomo sta lavorando su qualcosa che non esiste più ma che è fondamentale ma non è connesso direttamente con quella cosa ci siete? è la nostra mente e allora è interessante perché quando noi siamo di fronte a qualcosa che non abbiamo mai visto diventiamo interessanti mi seguite? perché se tu non hai mai visto una cosa si dice che i primi nativi americani che hanno visto le caravelle non le abbiano proprio viste ci siete? perché non erano abituati a vedere navi questa è una teoria della percezione eccetera comunque come è vero questo è anche vero che la Libia è a 10 minuti di come si chiama di Eurofighter la Libia in questo momento in 10 minuti uno di questi ci arriva è attaccata a noi giusto? ma noi qui siamo tanto preoccupati per il buco nero quanto lo siamo per la Libia giusto? è così? e sono lontanissime da noi allora questo rapporto che esiste fra la percezione la distanza reale quella mentale fra noi è interessante se ci pensate ok? un qualunque bisogno nostro come quando siamo bambini che pensiamo una mia mano è più importante avete presente quel momento in fondo noi non abbiamo mai smesso di essere così siamo antropocentrici e poi egocentrici a me di sto benedetto buco nero e della Libia diciamo che non ci perdo il sonno ok? ed è vero questo ed è vero ed è importante quando studiamo la mente non è importante quando studiamo il buco nero o parliamo della Libia ok? ci siamo? è importante quando pensiamo a come funziona la testa abbiamo detto che per noi sono reali le cose fatte da noi che lo sono anche quelle che abbiamo trovato in natura non vogliamo andare a picchiare la testa né contro un albero nemmeno contro una colonna abbiamo detto che andiamo soggetti al fenomeno dell'abitudine tanto quanto per gli stimoli quanto per i concetti noi ripetiamo cose non sappiamo cosa stiamo dicendo è un'altra caratteristica dell'uomo avete presente noi abbiamo anche un linguaggio che ci predispone a questo possiamo mettere la parola atomo quella anima e quella vattene a quel paese nella stessa frase stanno insieme ok? perché il linguaggio ha questa caratteristica è strutturato in modo di tenere insieme cose che concettualmente sono totalmente quindi l'anima mi hai rotto l'anima ci siete? mi sono stufato io e la mia anima saranno due cose se ce l'ho diverse però il linguaggio ha questa struttura può tenere insieme cose concettualmente slegate fra di loro perché le parole hanno tanti ganci questa cosa è stata strastudiata eccetera andiamo avanti noi quindi abbiamo una conoscenza legata molto ai muri alle divisioni guardate la muraglia cinese tutti dicono che è bella la muraglia avete presente? no? la muraglia cinese è una cosa favolosa però poi c'è il muro di Berlino ma la muraglia cinese non l'avranno mica tirata su a scopi umanitari no? immagino a suo tempo d'altra parte non però d'altro il muro di Berlino è stato tolto di mezzo e poi c'è il muro del pianto a cui uno può anche attaccarsi in un momento di disperazione comunque noi conosciamo anche attraverso la separazione noi ci rapportiamo fra di noi e nel mondo anche creando barriere e questo ve lo sto dicendo per una ragione che poi verrà fuori allora torniamo al punto dell'esplorare al problema dell'esplorare del mondo e quindi al senso della realtà se voi ci pensate qualunque creatura capace di muoversi anche incapace di muoversi ha bisogno di sapere se qualcosa che sta percependo c'è o non c'è partiamo da questo presupposto banalissimo per capire la mente un secondo ok siete una morena infilata dentro un buco siete un coccodrillo il coccodrillo sapete che è un sauro non mi pare comunque è un po' che sta lì anche lo squalo lo squalo c'ha tre neuroni ma ha imparato una cosa stare alla larga dagli esseri umani l'unica cosa che ha capito infatti c'è un mortolan in tutto il mondo causato dagli squali 44 per noci di cocco in testa pensate un po' lo squalo ha imparato così bene a stare lontano da noi che riesce praticamente per sbaglio succede perché una va mestruata cosa così uno si taglia veramente l'ultima è una tedesca che è morta così è andata lì così quello passava si era perso lo squalo e se l'è mangiata bene ora quello che ci interessa è che qualunque animale dal gambero fino a noi deve capire deve distinguere se qualcosa che gli sia acceso nel sistema della percezione qualunque essa sia perché poi sapete che siamo tutti diversi ci sono i pipistelli che non ci vedono però sentono gli ultrasuoni ci siamo noi che ci vediamo benissimo ci sono i cani che sentono il profumo quindi il profilo sensoriale è ampissimo però su una cosa dobbiamo convergere tutti quella cosa ci deve essere sul serio se avete mai pensato è vitale per esempio la zebra se voi foste una zebra e ogni rumore lo confondeste per un leone ve la vedete la zebra la zebra pazza è uscita una nuova malattia perché scapperebbe di continuo in realtà il branco tra l'altro sapete che se scappa una scappano tutte le altre quindi in realtà il sintomo scusate il segnale deve essere consistente è chiaro questo questo vale anche per noi vale per tutti gli animali nonostante che abbiamo sistemi sensoriali completamente imparagonabili però pensateci ancora nonostante il fatto che noi abbiamo sistemi sensoriali completamente non paragonabili alla fine cosa facciamo? o ci muoviamo o non ci muoviamo giusto? quindi ci sono due versi per prendere il problema mi muovo o non mi muovo cosa percepisco cosa non percepisco ci siete? il leone e la zebra usano già sistemi differenti ci siete? per localizzarsi l'uno con l'altro il pover guardate che il leone fa una vitaccia quando vede un branco di zebra ne deve puntare una sapete perché le zebra hanno le strisce? perché non si riesce a capire la distanza e la direzione quindi lui deve puntarne una continuare a seguire quella lì in mezzo a quel mucchio per quello che stanno tutte vicine perché sembrano una massa unica e andare dietro non prendere un calcio nella faccia per sopravvivere quindi il leone tutti credono che sia il re della foresta però fa una vita tremenda e quelle scappano quindi perché ve lo sto dicendo perché se una zebra dice leone tutte le zebre scappano il che significa che la sua capacità di dire cioè di determinare la realtà deve essere molto forte e quindi anche la nostra forse noi visto che abbiamo la mente siamo i più illudibili di tutti ok vagli a dire delle favole a una zebra a un ramarro non so non credo che funzionino va bene però invece nell'uomo sì ce ne raccontiamo di tutti i colori ok quindi questo rapporto con la realtà è chiaro quindi parliamo di rapporto con il reale il reale che cos'è il reale è una cosa che mi può cambiare la mia vita che può cambiare la mia vita e quindi è significativo dal punto di vista evoluzionistico perché se io non sopravvivo a quell'evento non trasmetterò i miei geni poi ci sono molti motivi per cui potrei non trasmettere i miei geni ma comunque se non sopravvivo è chiaro che non li trasmetto quindi la mia capacità di distinguere il reale dall'irreale è fondamentale anche ai fini della evoluzione della specie mi seguite su questo fino qua ora possiamo definire quindi l'esame di realtà in tutti i modi che vogliamo ma se lo vediamo dal punto di vista motorio cioè decidere se scappare o attaccare secondo che sei un predatore oppure che sei una preda e compagnia cantando è evidente che quello non può sbagliarsi è interessante se ci pensate bene questo è il mio cane io trovo sempre il modo di infilarlo in un congresso cioè è una mia piccola vezzo ma in questo caso centra se voi convivete con uno di questi qua questi sono cani che si sono selezionati nel tempo per due cose pigliare coccole all'infinito e fare la guardia cioè questi altro non sanno fare lui non sa fare nient'altro e prende le coccole fa la guardia e mangia gli piace tantissimo mangiare bisogna stare attenti perché tende a prendere peso lui è magro io no ma è incredibile quanto riescono a mangiare per il resto questi animali sono molto interessanti perché si sono selezionati dai tempi dei romani poi sono rottweiler non so se ne avete presente tutti dicono oddio rottweiler in realtà sono proprio pacifici tranquilli perché non ne hanno voglia sono anche molto pigri però se avete mai ricevuto anche solo le feste da uno di questi sapete che la potenza fisica la forza che ha uno di questi qua è veramente qualcosa di spettacolare dura due minuti rottweiler se riesce a scappare quello più di due minuti non ce l'ha perché proprio non riesce a fare sforze né aerobici però è velocissimo potentissimo ok e quindi voi ve lo terreste in casa fidandovi se sapeste che lui può avere vuoti di memoria cattive interpretazioni della realtà magari io mi sveglio una mattina che mi gira il belino e quello mi attacca giusto magari una mattina mi sono antipatico al mio cane lui lo percepisce che fa che vuol dire antipatico per lui antipatico vuol dire minaccia ci siete loro non fanno altro in testa non hanno altro se tu lo osservi è bellissimo loro anche mentre dormono anche mentre dormono contano quante persone ci sono nelle stanze tengono tutto una roba è un divertimento uno spasso seguire la vita tra l'altro credo che sia il paradiso in terra secondo me coccole mangiare nessuno che gli fa da bullo avete mai visto bullizzare un rottweiler ehi tu ma nessuno mi viene anche in mente quindi questi sono in più non sa che un giorno morirà ve lo immaginate questo piglia coccole dal mattino alla sera però un giorno ho fatto questa osservazione avete presente un po' tutti i cani ma soprattutto quelli che si sono selezionati per queste attività diciamo di prevenzione di crimini e altri problemi se sentono un film c'è la tv accesa stanno massacrando le persone quelli stanno lì lo senti delle volte russe devi alzare il volume al limite se stai guardando un film però non fa una piega magari c'è una sparatoria senti una donna che urla così eccetera quello non fa una piega quindi uno è portato a pensare secondo lui non esiste giusto? cioè non sta succedendo niente è vero o no? cioè questi qua un giorno è vero stavo sentendo del funky a volume altissimo e lui ha sentito un gatto fuori nei giardini come è stato possibile? ok? evidentemente è possibile è un fatto sensoriale sapete che hanno un olfatto incredibile e va bene però se voi spruzzate anche un po' di acqua di colore io mi immagino che lui pensi in tedesco quindi scusate non so non devo sempre parlare è più forte di me perché mi voglio bene e quindi se voi spruzzate nella stanza un po' di profumo chi conosce i cani così ma anche i cani non prettamente da difesa e compagnia cantando fanno un macello pazzesco nel senso che vanno in allarme si guardano intorno soprattutto se non hanno mai sentito quella fragranza ma sono fortissimi e dopo aver fatto un po' di macello per vedere se è successo qualche cosa incominciano a strusciarsi il naso per levarselo e ora faccio a voi la domanda secondo voi io non ci sono spaccato la testa per un non vi voglio dire quanto perché poi magari il primo che parla sembra più intelligente sapete che tutti siamo feticisti della nostra intelligenza guai ma perché perché questa storia che per un suono incredibile quello non muove un pelo spruzzi un po' di profumo e ti sei comprato un nuovo profumo lo spruzzo e senti anche i rumori eccetera poco tempo dopo capisce che non ci sono pericoli e si calma secondo voi la differenza qual è? sì loro sono molto più un profumo che minaccia rispetto al suono di una che viene strangolata prego sì ma c'è una cosa proprio di fondamentale differenza per loro come per noi eh eh brava infatti eccola qua la risposta vedete questo era un po' più piccolo allora lui che fa? il profumo l'odore viene da molecole che sono realmente presenti in un ambiente lo sapevate no? questo volano nell'aria e quindi da qualche parte ci dovrebbe essere qualcosa che le ha fatte uscire ci siete? quindi se lui poi il profumo non lo conosce potete immaginarvi no? incomincia a entrare in allarme dice cos'è marziani sono cose cose strane e quindi va in allarme perché è una cosa reale un suono invece un suono lo sta emettendo un amplificatore e lui riconosce che non appartiene al mondo reale ma che è riprodotto infatti io ne ho derivato la prima legge di Telonius Brentan che secondo me è una sua idea che ha in testa che sa bene qual è la differenza fra realtà e rappresentazione infatti tutte le cose che sono scenografiche se fate conto gli animali non mostrano alcun interesse ma non è perché sono stupidi ok? e quando voi notate che ripeto razze un po' gagliarde hanno delle simpatie delle antipatie avete fatto caso no? diciamo ma chissà perché ce l'ha col lattaio vabbè adesso non c'è più il lattaio che ti porta al latte no? io non me lo ricordo neanche c'è cinquanta due anni ma comunque veramente il lattaio non me lo ricordo però c'era un tizio che mi portava il gas e lui non gli piaceva veniva un mucco di genitori corrieri sapete quei corrieri poveracci no? che odiano i cani poi tutti feste contro feste questo non lo poteva vedere ok? strano allora io mi sono accorto che questa era una persona falsa uno che sparlava parlava in un malo dialetto antipaticissimo del casertano eccetera io gli dicevo ma lei guardi che rappresenta un'azienda importante eccetera eccetera niente non mi dava mai lui in due secondi dottore come va? finì il gas va tutto bene lui ha trasformato quella persona vuol dire che quella persona aveva qualche elemento del suo atteggiamento che non convinceva il cane nel senso che e in effetti era molto scenografico avete presente quelle persone un po' alla Carlo Verdone quando prende in giro i tamari era un tipo così e alla fine lui ce l'aveva con questo tizio io credo osservando che la differenza dell'eccesso di rappresentazione cioè di fingersi e di originalità in qualche modo venga più o meno percepito dagli animali predisposti a controllare l'ambiente però per questo per dirvi attenzione non facciamoci ingannare dal fatto che sia la mente cosciente a separare la realtà dalla fantasia la mente cosciente paga per andare al cinema a piangere per un fatto che non sta accadendo ce li vedete questi in fila per andare no? quindi siamo noi che siamo particolari noi paghiamo per andare ad ascoltare un comico noi paghiamo per cioè capisce al circo a vedere i prestigiatori che sappiamo pure che c'è il trucco noi siamo fatti così però è fondamentale che anche noi capiamo possiamo essere in grado di distinguere se qualcosa è reale oppure no se non siamo fregati ok? non ci sono i truffatori nel mondo animale ok? non potrebbero esistere i truffatori nel mondo animale ci sono i camuffatori questi sì hanno l'abilità di ok ora io ho tre benjamin da presentarvi uno è Libet questo è Cacciari da giovane che è Benjamin Button perché più invecchio più è bello secondo me quindi invecchio all'incontrario e questo è Benjamin Franklin sapete i fulmini eccetera benjamin Libet molti sono contenti del fatto che sia morto perché benjamin Libet era uno della mia categoria di un neurofisiologo e aveva dimostrato che noi prima di fare un'azione volontaria abbiamo un'attività cerebrale che precede la volontarietà quando invece la facciamo involontaria non c'è e questo vi giuro che si chiama readiness potential è una cosa fastidiosa se ci pensa quando il volontario dice sto agendo di mia volontà quello lo sa 900 milisecondi prima che tu abbia detto è mia volontà se invece tu l'hai fatto automaticamente questo potenziale non compare ci siete? però insomma guardate che faccia che aveva Libet lo vedete? magro poi quello terzo non so se lo riconoscete il prete di Barry Lyndon di Stanley Kubrick l'ho messo così tanto perché ci assomiglia un po' però diciamo che ci hanno condizionato parecchio queste figure poi Libet è morto non l'ha ripreso più nessuno perché era veramente odiosa questa idea che non solo abbiamo difficoltà a rapportarci con il reale ma per di più pare che quando noi pensiamo di aver agito volontariamente tanto volontariamente forse non abbiamo agito ok? o perlomeno ha messo in discussione questo 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 concetto era uno con sapeva quello che faceva scusate sta venendo in un'altra parola però era uno che veramente sapeva quello che stava facendo e è stato molto criticato ovviamente perché l'antropocentrismo non esce nemmeno dalla scienza io sono abbastanza convinto di questo fatto una scienza non antropocentrica ancora non ce l'abbiamo in mano non so se mi sto spiegando noi pensiamo comunque che sia tutto rivolto a noi ci siete questo buco nero sta lì per noi in fondo in fondo e questa cosa qua rende difficoltose le ricerche che studiano coscienza che studiano relazione ok? tutto il resto non ha nessuna importanza però è piuttosto farraginoso la presenza sempre nostra come bambini che esplorano il mondo che si riferiscono tutto riferiscono scusa tutto a sé ok? il piccolo mondo conoscete la teoria dei piccoli mondi non dei bambini i bambini vanno facilmente in paranoia se i genitori si separano perché credono che sia colpa loro sapete questa cosa ma perché è colpa tua hai due anni cosa vuoi avere bene ok ecco un primo fatto invece che è interessante questo è un andamento dei pezzi del petrolio voi direte cosa c'entra questo c'entra con le dinamiche non lineari e quindi con la scienza che studia la natura quella parte a destra dell'inizio della cosa questi erano gli anni 70 vedo uno c'è un signore qua davanti vicino che se lo ricorderà che andammo tutti in bicicletta per parecchio tempo giusto negli anni 70 vedete che schizzo che fece il prezzo del petrolio dal 20 era da 20 al barile 57 improvvisamente c'era la gente che andava in bicicletta di domenica vuol dire che un fatto che è apparentemente molto astratto ci ha riguardato direttamente ma la cosa più importante è che questo fatto era imprevedibile uno mi dirà ma no perché c'era la guerra in Golan eccetera era imprevedibile il quando cioè era imprevedibile il giorno in cui sarebbe successo questo ci siete fino a questo punto cioè una caratteristica del mondo naturale che produce fenomeni imprevedibili e questa caratteristica riguarda sia gli andamenti dei mercati che scusate gli andamenti dei fulmini per esempio questo è un vecchio detto ligure io adesso non ve lo voglio proprio buttare così comunque chi lo capisce lo capisce insomma era un evento imprevedibile ok però era meglio stare alla larga da dove c'era noi ok chi si è messo e come a studiare questi eventi naturali ci sono lei ha capito è di Genova ha capito l'avevi stata fatta in tempo mi dispiace perché non volevo cioè era va bene vedete questo questo si chiama il paradosso della linea di costa ed è l'abc della scienza che studia questi fenomeni di cui vi ho appena parlato e che tra l'altro sono il modo in cui funziona il cervello per questo stiamo per riandare se voi cercate di misurare quanto è lunga la costa per esempio in questo caso dell'Inghilterra di quello che ci sta sopra insomma dell'insieme il numero continua a variare in funzione della lunghezza dei tratti con cui lo misurate ci siete? se sono pezzi da 100 km viene 2.400 se sono pezzi da 50 km viene 3.600 la differenza è enorme in pratica ci vorrebbero frammenti millimetrici o anche meno per avere e quindi non finiremo mai di misurare che proprietà è questa? non è certo quello delle linee dritte giusto dei segmenti diretta perché misurarle è facilissimo misurare una linea di costa è praticamente un'avventura bene questo signore lo vedete con gli occhi come ce l'hanno perché qualcuno che ragionnava lui aveva detto vabbè il mondo artificiale cioè quello che abbiamo inventato noi è delle misure è un tipo di matematica lui si chiama Poncaret era pigrissimo lavorava solo di pomeriggio dormiva tutto il giorno e ha rivoluzionato la scienza però ha detto però il mondo delle cose naturali ha un'altra matematica mi seguite? per esempio io ho conosciuto un professore un professore come si chiama emerito di fisica che studiava la lunghezza delle pause degli uccellini quando cantano pensate che e beh ha scoperto che è uguale ed è paragonabile statisticamente alle pause umane perché in realtà è il tempo che noi dedichiamo all'altro per capire io forse non ve ne sto dedicando troppo però mi state seguendo fino a qua ok questo fisico questo qua lo vedete gli occhi guardate gli occhi perché voi dite un daguerrotipo no? un foto di gestione tutte persone questo era strafatto proprio era una cosa Poncaret era un personaggio assurdo vabbè grazie a lui esiste una scienza esatta che studia i fenomeni come quello che abbiamo fatto vedere prima non c'è verso di calcolare nemmeno il perimetro di un continente ci siete? quello che vedete sopra è una sequenza di battiti cardiaci umani la vedete? vi fidate? un pochino eh? fidatevi è una frequenza quando voi vi sentite il polso avete un'impressione di irregolarità è vero questo? è così? tranne quelli con la fibrillazione atriale diciamo tutti abbiamo un'impressione di irregolarità siamo d'accordo su questo? in realtà se tu misuri mille secondi o anche meno non si ripete mai cioè il cuore adesso amplifico un po' le cose fa tum 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 non proprio come la fibrillazione atriale ma ci sono differenze di tempo tra un battito e l'altro cioè c'è un andamento non lineare è irregolare ok? guardate di sotto di sotto c'è l'intervallo vedete come cambia nel tempo? ci siete? lo vedete? è incredibile tu ti dico che bello il cuore il cuore è regolare se è perfettamente regolare vuol dire che stai morendo o che sei in coma o che sei in stato vegetativo pensate che i cinesi e tra l'altro io ho un'antipatia perché mi fanno una paura bestiale però i cinesi la medicina cinese già 3.000 anni fa lo diceva prendevano troppo regolare sei fatto è vera è questa cosa era uno degli loro avevano distingue tantissimi tipi di polso e avevano capito non si sa come che un polso eccessivamente regolare preludeva diciamo al passaggio di stato definitivo dell'uomo ora guardate quanto è irregolare se voi guardate il trend di sotto vedete questo è il tempo tra un battito guardate come varia è incredibile ci siete? perché varia così vi ricordate prima quello che avevo fatto vedere le azioni in borsa ok ora vado avanti no scusate vado vado qua questo è uno schema poveri voi no infatti l'ho intitolato allaccati le cinture lì comunque la sostanza è la morale è che quello che vedete qui sulla vostra sulla vostra di qua di qua è geometria qua invece è riferito al tempo ci siete? cioè Boncari e i compagni sono riusciti a far passare la questione della linea di costa ci siete perché questa è una chiave magari stasera andate a casa e potete raccontare ai figli invece di dargli il bacino dite ho studiato la non linearità ho guardato la non linearità ok? ora vedete quello a sinistra è la logica del frattale ne avete sentito tutti sanno cosa sono i frattali il frattale cos'è? è una cosa che nel suo disegno ha il suo disegno e ha il suo disegno ok? la linea della costa assomiglia ad un frattale l'andamento nel tempo del cuore assomiglia ad un frattale cioè a qualcosa che assomiglia a se stesso a seconda della distanza con cui dell'ampiezza pensate a una costa no costa di mare giusto? se guardate 100 km o guardate 10 più o meno il modo di andare è lo stesso quale fu l'idea? proviamo a fare la statistica li confrontiamo qualcosa è non lineare se si rassomiglia indipendentemente dalla misura che si sta studiando ok? cioè è naturale a noi interessa solo quello ok? bene questo è un esperimento che ho fatto nel 2008 vedete sopra questo è l'andamento del cuore di una persona normale sopra healthy normale sotto era vabbè devo ammettere era la più vegetativa che aveva nel reparto perché si vede a occhio vedete che l'andamento nel tempo del suo cuore è molto lineare c'è una differenza abissale tra questi due andamenti quello è un ragazzo bello che era lì ti fai misurare un po' e qui sotto abbiamo raccolto un tot di persone con stato vegetativo che cosa succedeva in pratica che quello che gli succedeva intorno non variava l'andamento della loro frequenza cardiaca perché quella cosa che ci stava in mezzo cioè il cervello non lo percepiva praticamente il loro cuore si comporta di più come quello dei trapiantati che sapete che non li collegano mica no? il cuore va per conto ok e diventa estremamente regolare perché il cuore isolato è regolare il cuore durante l'anestesia generale diventa regolare eccetera con questo trucco siamo riusciti a prevedere chi si svegliava da chi non si svegliava però dovevano avere il cuore sano per conto loro ci siete? non dovevano avere un attacco di febbre in quel momento insomma non doveva succedere qualcosa tipo quella cosa che ha fatto schizzare in alto il prezzo del petrolio perché in fondo in questo senso il mondo dell'economia il mondo del web diciamo dei massimi sistemi e dei minimi si assomigliano tantissimo diventano molto imprevedibili vedete l'andamento di sopra è imprevedibile quindi abbiamo usato un metodo matematico che si chiama entropia approssimata che dice quanto è imprevedibile quell'andamento tutto lì ok adesso vi faccio capire qual è il collegamento e perché ci interessa questo è un elettroencefalogramma che cosa è che guardiamo noi dentro perché voi mi dite ma che no dai anche l'elettroencefalogramma no però se ci va bene andate là e dite abbiamo studiato la non linearità e anche l'elettroencefalogramma perché c'è un modo di spiegare alla gente l'elettroencefalogramma ci credete che c'è c'è vedete è una roba assurda anche io quando ho cominciato a vedere l'elettroencefalogramma stanno facendo finta mettono delle cose scritte sotto ma non guardano niente come fai a interpretare questa roba in effetti questa è l'interpretazione qualitativa ok alle prime volte c'è da buttarsi dalla finestra cambio specializzazione vado anche a fare becca morto piuttosto che mettermi qua dietro queste cose qua perché poi è tutto così sono sempre linee bene che cosa c'è da guardare qua ci sono due modi di considerare il cervello uno dei due è questo molto cool che va adesso e che dice che il cervello in fondo è come un computer avete presente tutti non fanno che ripetere questa cosa qua il cervello prima era come un libro poi è diventato come la macchina da scrivere poi è diventato come l'orologio a cucù poi è diventato e alla fine adesso è come un computer ok è sempre come l'ultima cosa che abbiamo inventato noi però io vi faccio vedere una cosa interessante proviamo a immaginare questo per farvi capire la legge che sia uno stadio di calcio cosa c'entra uno stadio di calcio con il cervello che dentro c'è un mucchio di gente ok 10 alla 12 neuroni e qui ci sono boh quanto ve ne pare a voi una volta io erano gli anni 90 ero in macchina fermo fuori dall'olimpico e stava giocando non so con chi l'Italia e in fondo se avevi le informazioni giuste riuscivi a capire più o meno come stava andando la partita cioè l'elettroencefalogramma adesso qui è uno stadio di baseball ma poco importa è come mettere tanti microfoni in giro per un campo scusate per uno stadio che cosa senti o senti le ole giusto che sono come quei ritmi qua vedete quelli più regolari li vedete questi così vedete e di solito in questi ritmi qua noi siamo incoscienti ok quando è bella quando i neuroni fanno la ola in effetti non sta succedendo niente è vero o no poi se stanno facendo o si sente giusto quel rumore lì quel rumore lì corrisponde a questo si chiama reazione d'arresto tutti dicono così stanno dicendo dai che ci vuoi così no e c'è questi rumori questo andamento in cui praticamente la connessione fra le persone a seconda delle squadre la squadra per cui tengo poi tutti tengo per la Juventus io non lo so io tengo per il Genoa sono genovese da delle lesioni però abbiamo battuto la Juventus immaginatevi che cosa è successo in quel momento in quello stadio giusto tra l'altro è successo a Marassi bene questo per dirvi cosa ok la gente sono i neuroni e quindi il loro grado di sincronizzazione desincronizzazione varia di continuo a seconda di quello che sta succedendo a seconda di chi sono perché se sei della curva tale o della curva dall'altra sei un intellettuale sei della polizia sei quello che sei reagisci in modo differente è vero questo? se ci fossero diecimila quarti uomini che non hanno mai capito cosa servono comunque è il quarto arbitro giusto? sentiremo un altro ritmo ancora giusto? ci siete fino quindi immaginate che noi non sappiamo di preciso cosa elaborano i neuroni però hanno questo abbiamo la possibilità di vedere quando si assommano le loro voci cioè quando si assommano i campi elettrici che stanno producendo perché un'onda regolare non è nient'altro che l'effetto di una ola cioè di un momento in cui tutti i neuroni stanno facendo contemporaneamente in una data zona poi in tutto il cielo in effetti quando dormiamo è proprio così ci siete? e perché quando è così regolare noi stiamo dormendo secondo voi? è facile perché se tutte le parti di un sistema scusi signora tutte le parti di un sistema interconnesse stanno facendo la stessa cosa in realtà il loro numero non ha più nessuna influenza sulla realtà che stanno elaborando ti pare? se tutti pensiamo la stessa cosa nello stesso momento non cambiamo nulla giusto? cosa ci stiamo a fare in venti a pensare a un problema se tutti e venti pensiamo la stessa cosa? quindi quando i sistemi sono veramente connessi infatti io ho il terrore del 5G perché secondo me quando saremo tutti collegati col 5G il mondo si spegnerà e andrà in coma perché tutti guarderemo la stessa cosa ci siete? nello stesso istante nello stesso momento ma questa è una mia idea delirante vabbè detto questo funziona però per capire se tu vedi che l'EG è troppo regolare poi questo lavoro che vi ho fatto vedere col cuore l'abbiamo fatto con l'elettrocefalogramma con risultati molto più interessanti ti trovi davanti a risolvere altri paradossi io qua studiavo medicina non l'avessi mai fatto dov'è? non lo so come si fa insomma avevo avuto avevo avuto mi era successo voi ve lo ricordate Maradona no? maledizione vabbè vi ricordate Maradona più o meno? credo di sì e Maradona io di calcio non ne capisco niente però rimanendo nel calcio faceva delle cose incredibili anche uno che non capiva niente di calcio dice mamma mia giusto? io qui avevo fatto un breve filmino era bello mi dispiace perché era veramente bello si vedono alcuni numeri di Maradona un giorno e stavo studiando mi ricordo fisiologia sento un'intervista alla radio di Maradona e io ho presente questa bestia questo genio mi ero fatto l'idea cioè avete presente i dribbling di Maradona i gol che dici ma dato come è passato questo qua me ne ricordo uno con la Germania io non mi piace il calcio non lo seguo non so la classifica però una volta aveva quattro tedeschi intorno ha fatto gol lo stesso quattro ce ne aveva quattro addosso è riuscito ha girato su se stessa mentre la palla veniva giù e fa gol beh sento l'intervista e ho sentito parlare un cretino completo ho detto ma come mai e io mi ricordo andavo in giro dicevo ma cosa c'entra quello che ho sentito parlare con quello là cosa c'entra perché cioè è una domanda no cioè com'è possibile che Magic Johnson pensi soltanto a quelle catene d'oro e basta com'è possibile che Maradona non sappia declinare né in italiano ma neanche in argentino com'è possibile poi vedo vedo un vecchietto che tira delle pezze di focaccia a Genova a dei piccioni e capisco tutto perché vedo un passero che passava sopra i piccioni chiude le ali precipita prende il pezzo di focaccia e se ne va era molto meglio il passero di Maradona quindi c'era qualcosa che non ha nulla a che fare tra il sistema motorio e il pensiero ci siete? e questa è una linea che avrete notato vi sto tartassando da un po' bene questo è un è un lavoro che è l'unico di cui sto andando veramente orgoglioso in cui mentre continua il trend studiare la complessità per quello che la mia relazione si intitola complessità verso semplicità e io mi sono messo lì a studiare insomma con i miei collaboratori qui c'è Francesca Pistoia queste sono persone che sanno quello che fanno e ci siamo messi a studiare la relazione quanto più è complesso avete capito quindi lo stadio tanto più bisbigliano fra di loro eccetera vuol dire che l'andamento è imprevedibile e invece quando gli andamenti sono imprevedibili sta a significare che i sistemi sì che sono interconnessi o non interconnessi ma stanno facendo la stessa attività quindi io sono in mano di uno stimolo esterno ma non lo elaborano oppure sono in mano di un pacemaker interno ci siete perché non so se è interessante perché poi a me interessano ma a chi lo sa se agli altri però il fatto che è interessante qua se ci riflettete è che per esempio stanno facendo grossi calcoli sull'attività su internet delle persone proprio usando questi algoritmi stanno prevedendo l'influenza di dieci giorni ok la borsa fra un po' sarà prevista per cui dovranno cambiare il sistema immagino che scommessa è se tutti sanno già come andrà no forse sarà meglio forse sarà peggio io non lo so però io poi ho pensato tornando al fatto che solo quando ci muoviamo poi in effetti mi è venuto in mente Brentano avete visto che il secondo nome di Telognus è Brentano il cane no Brentano era uno psicologo svizzero che nel 1890 1900 non so lui disse secondo me il punto di approccio migliore per studiare la coscienza non è la percezione ma è il momento in cui decidiamo ci siete? è il momento in cui stiamo passando all'atto e adesso come per miracolo si ricollega tutto all'inizio ci siete? cioè il momento in cui la murena decide di uscire fuori il momento in cui noi abbiamo valutato la realtà abbiamo seguito l'esame di realtà secondo i nostri sistemi di elaborazione e stiamo passando all'atto a me questa idea sembrava carina ci siete? dico non mi casciamo sto Brentano perché in fondo ogni animale ogni creatura noi compresi ha un sistema di elaborazione sensoriale differente ma una cosa abbiamo in comune fare così tutti facciamo così tutti siamo capaci in un certo momento di creare un atto motorio preciso e univo con il tempo ci siete? allora io che ho fatto? ho preso uno stimolatore magnetico transcranico che ve lo faccio vedere che facciamo prima si prende la testa di un paziente si segnano i punti dove non c'è niente di impressionante no? anche se è una cosa generalistica giusto? e poi si fa aspettate ecco qua qui c'è anche lei questo è il paziente vedete come assomiglia a palla di lardo di di full metal jacket avete visto full metal jacket era identico questo ragazzo bene che cosa abbiamo fatto noi? abbiamo stimolato nell'area motoria anche nell'area premotoria con degli impulsi magnetici ma a colpo singolo non ripetitivo quindi non abbiamo stimolato il cervello che cosa è successo? voi sapete che se è stimolato nell'area motoria dopo 20.000 secondi succede questo se è l'area motoria della mano ok? ma se in quel momento voi allarmate il paziente l'ampiezza dello stimolo aumenta si chiama facilitazione corticomotoria significa che siamo più pronti ad agire ci siete? quando noi stiamo dando questo stimolo stiamo anche sincronizzando i neuroni istantaneamente ci siete? perché gli stiamo dicendo creiamo uno switch cioè stiamo facendo stiamo convincendo un tot di tifosi a fare nello stesso istante esatto ora questo è il momento in cui me ne sono accorto è stato fantastico perché qui lo stimolo era apri la mano e chiudi la mano vedete quello che vedete quell'onda terribile che si intravede è la contrazione muscolare la contrazione muscolare che segue questa senza stimolo e questa con lo stimolo apri e chiudi la mano voleva dire che o ha capito o ha visto o sta per migliorare ci siete? ma di fatto il circuito che elaborava quella sincronizzazione era più complesso di quello di altri pazienti in cui non varia minimamente l'effetto ci siete allora ecco qua questo è visto in termini grafici qui sono paziente per paziente e vedete che c'era una condizione di riposo una condizione di osservare cioè gli facevamo stringi la mano stringi la mano ok ripetuto e vedete che l'ampiezza del potenziale del muscolo aumentava questa è una cosa per quello che siamo più scattanti quando si sta verificando qualcosa di importante questa è una situazione in cui poco dopo gli abbiamo messo nelle mani nella stessa mano qualche cosa che poteva muovere e riusciva a muovicchiare la mano abbiamo ritenuto un risultato interessante e abbiamo concluso questo qui è in inglese perché non ho fatto in tempo prima comunque la sostanza è questa per quanto sia complessa e qui il rasoio di Ockham cioè per quanto sia complessa l'attività di un sistema quando questo sistema se ne esce con un'uscita un output questa uscita deve essere più semplice della sua elaborazione ci siete perché deve essere così cioè deve essere un fenomeno che assomiglia alla sincronizzazione ci siete quindi da qualche parte nel cervello dovrebbe esserci un sistema che decomplessifica all'istante l'andamento del sistema questo lo so che non è proprio intuitivissimo però per fare così mentre tutti i neuroni stanno andando ognuno per conto suo creando quel brusio di cui vi ho parlato è chiaro che sta succedendo qualcosa sta succedendo che i motoneuroni si stanno estemporaneamente sincronizzando siamo andati vabbè qui ok quindi ci sono due vie ho usato questi due cartelli no c'è anche la via della semplificazione finale in uscita e vedete questo è un esempio ho dovuto fare la foto all'articolo cioè vi rendete conto che ho fatto la foto all'articolo perché questo è l'effetto di un colpo di TMS sull'EG medio lo vedete che lo sincronizza cioè questo è l'area stimolata dal perché ridi eh? eh? ah beh possiamo parlare se vuoi perché non ti aspetti quello che dico ti aspetti quello che dico oh grazie hai ragione cioè è pazzesco guarda delle volte anche mi viene a piangere però ho messo un muro del pianto scusate io non resisto cioè cartello di prima indica due modi di pensare allora io quando andavo passevo per l'autostrada un cartello come dicevo che per andare in una città che si trova a destra devo girare prima a sinistra è proprio rende o la cosa complicata ma è la realtà dell'autostrada allora allora nel cartello indica che per andare a destra posso dire in due modi o con un cartello o con un cartello o con un cartello si 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 però e si certo il punto è che non necessariamente una questione scientifica deve essere così da smontare però è difficilissimo riuscirci se ci riflettete per un secondo no in questo periodo noi ci stiamo beando della nostra complessità è vero no li leggete i giornali eh li leggete focus focus io ci farei dei faloc cioè ah no che bello saremmo tutti connessi il mondo un gigantesco web il mondo come un cervello io voglio concludere facendovi una domanda ma secondo voi se il web il mondo un giorno diventasse intelligente noi ce ne accorgeremmo pensateci cioè il cervello nel suo insieme si confida con il neurone perché noi siamo poco più che un neurone rispetto al web inoltre il web è un network misto è fatto di esseri viventi e di esseri non viventi di computer per cui ancora meno sappiamo che tipo di piega prenderà ma è molto probabile che se diventerà senziente perché no perché la scienza non deve mai escludere a più niente se diventasse mai senziente magari si metta a palleggiare luce con un altro pianeta ma può darsi che a noi non ci consideri minimamente e l'altra domanda che vi faccio riguardo a questo perché è un problema interessante sapete che si parla di applaudare la mente dentro il computer ne avete sentito parlare di quest'altra cosa no? ogni tanto c'è gente che dice io mi farò caricare su un computer così non morirò mai ma non le leggete queste cose sul giornale vabbè è una delle mattane ti ricordi quando si volevano fare ibernare le persone? adesso no adesso dicono vabbè mi faccio mettere su un computer così inizio a sguazzare in questo computer e non morirò mai no? secondo voi questa cosa è ipoteticamente per quanto riguarda le conoscenze attuali che noi abbiamo di fisica biologia che è possibile questa cosa qui sì o no? ok se considerate per quello io l'ho intitolato il rasoio di Ockham che poi mi sono dimenticato di scriverlo eccetera cioè se considerate che la soluzione più importante è la più semplice e non la più complicata è molto probabile che noi dobbiamo ricominciare dallo studio del modo in cui riusciamo a passare all'atto nel movimento ci siete? e non delle mille derivazioni fantasiose che noi stessi facciamo su noi stessi non so se è chiaro il concetto ma non perché io voglio dare un principio mi vedete come se siamo un realista no però l'approccio che dobbiamo avere che stiamo cominciando ad avere avete visto quell'esperimento l'approccio che dobbiamo avere secondo il mio modestissimo parere adesso non è più di complicare ulteriormente il sistema è già abbastanza complicato domani un algoritmo può decidere di vendere tutte le azioni di quello delle scarpe come si chiama TOD e ci ritroviamo tutti in mutande sapete che ci sono degli algoritmi che vendono e compro ok quindi è già abbastanza complicato così il mondo per come l'abbiamo concepito ci siamo messi nelle mani dei sistemi molto complessi che non capiamo e non riusciamo a seguire nel tempo ma non è detto che lo debba fare la scienza secondo quindi il mio punto di vista anche quello di un tale che si chiama Wolpert e di altri è che in fondo l'unica causa che può fare un essere vivente per essere oggetto dell'attenzione di un altro essere vivente è produrre un movimento quindi è evidente che nel momento in cui si crea dal complesso dell'elaborazione al semplice del movimento potrebbe esserci il trucco per fare un avanzamento ulteriore nelle neuroscienze io vi ringrazio e vi benedico per aver resistito fino adesso a sto discorso grazie